Damiano Brigo, una partita incredibile, però il break inflitto all'inizio del quarto quarto è stato determinante, lasciamo perdere poi tutte le tensioni, i nervosismi. Strepitosa partita, strepitoso, incredibile quarto quarto dei miei compagni che hanno veramente, prima ho onorato la maglia in maniera encomiabile e poi hanno messo una intelligenza tattica, un'intelligenza tecnica e una grinta che per questi livelli comunque è rara da vedere. Veramente complimenti a tutto, allo staff tecnico e ai miei compagni sono stati imperiosi. Damiano questa era una partita importante perché vincerla significava l'accesso alla semifinale come è stato questo pomeriggio per la over 50, quindi semifinale già da domani, non conosciamo i nostri avversari però già questo è un motivo di grandissima soddisfazione. Beh è un grande vanto perché queste sono le partite da dentro o fuori, chi vince va avanti, chi perde resta dietro. Adesso non so se si gioca domani o sabato, non si sa l'avversario, però giocando con queste attitudini al sacrificio, al sudore, alla grinta, al buttarsi sulle palle vaganti, ce la giochiamo anche noi come Italia Over 40. Grazie da me.